Tutti conosciamo l'impresa biblica di Davide, che con la sua frombola affrontò il gigante dei Filistei. Un gigante, letteralmente, e per giunta armato di ferro dalla testa ai piedi. Un'impresa degna di finire nei testi sacri perché l'eroe degli ebrei, a dispetto dei pronostici, riuscì a sconfiggere questo colossale avversario, scagliandogli addosso una poderosa sassata. E poi gli mozzò pure la testa. Ma di sfide contro i giganti ce ne sono state molte nell'antichità, una delle quali riguarda la storia di Roma, ovvero il duello tra un gigantesco gallo e un eroe dell'urbe, Tito Manlio. Questo episodio è narrato da svariati autori, tra cui Tito Livio, Auro Gellio e pochi altri, ed è ambientato nel 361 a.C., quando si narra che i Galli si fossero accampati con il loro esercito a tre miglia da Roma, sulla via Salaria, al di là di un ponte su un affluente del Tevere. Vista la minaccia, il console e dittatore in carica mobilitò l'esercito della Repubblica, arruolando tutti i giovani in età militare per la chiamata alle armi. L'esercito di Roma lasciò l'urbe e si accampò sulla riva opposta del fiume dinanzi al nemico. A dividerli, il fiume stesso è un singolo ponte, ancora in piedi, che nessuno aveva usato abbattere, sia perché si trattava dell'unico passaggio, sia perché, come dice Livio, nessuno voleva dare l'impressione di avere paura. Su quel ponte che metteva in comunicazione i due eserciti, avvenivano spesso delle scaramucce, perché soldati dell'una e dell'altra parte, anche di propria iniziativa, si avvicinavano al ponte per tentare di attraversarlo, ingaggiando degli scontri che non si risolvevano mai in un qualcosa di definitivo. Fu così che dopo qualche tempo, vista l'assenza di una possibile battaglia campale che non avrebbe potuto disputarsi sul ponte, un ponte così piccolo, si fece avanti un energumeno dalla parte dei Galli. Un soldato gallico dal fisico possente che, raggiunto il centro del ponte, urlò con quanto fiato aveva in gola. Si faccia avanti il guerriero più forte che c'è adesso a Roma, così che l'esito del nostro duello stabilisca quale dei due popoli è superiore in guerra. E tra i romani calò il silenzio. Tutti avevano timore di accettare la sfida di un così temibile avversario, ma tale silenzio era in verità assordante perché faceva passare male l'intera Roma. La dignità della patria era appesa al coraggio di quegli uomini. Allora Tito Manlio, patrizio romano d'antica e nobile famiglia, lasciò il suo posto e si avviò verso il dittatore, nonché generale, dell'esercito per discutere con lui, poiché prima ancora di accettare la sfida chiese il permesso di poterlo fare. Un aspetto fondamentale che testimonia la disciplina ferrea, nonché il valore intrinseco del soldato, che prima di essere un valoroso guerriero, abile in battaglia, era soprattutto un cittadino fiero e civile. Questa la contrapposizione coi barbari selvaggi che facevano un po' come pareva a loro. Senza un tuo ordine, o comandante, disse Tito Manlio, non combatterei mai fuori dal mio posto, neppure se vedessi che la vittoria è sicura. Se tu me lo concedi a quella bestia che ora fa tanto lo spavaldo davanti alle insegne nemiche, io vorrei dare la prova di discendere da quella famiglia che cacciò giù dalla rupeta arpea le schiere dei Galli. L'eroe romano quindi chiese il permesso, alludendo all'impresa dei suoi avi che durante l'invasione di Roma da parte dei Galli, circa una trentina di anni prima, riuscirono a sconfiggerli dall'alto del Campidoglio dove si erano asserragliati. L'episodio è passato alla storia anche per un'altra questione più divertente, ovvero l'intervento di uno stormo di oche che, stando alla leggenda, proprio dalla cima di quella rupe, si misero a starnazzare per avvertire i romani che stavano di sopra dell'arrivo dei Galli, che stavano di sotto e si stavano arrampicando. Insomma, Tito Manlio sapeva di discendere da dei grandi eroi e che adesso era giunto il suo turno di diventare un eroe. Il comandante colpito da quella richiesta accettò, forse anche perché si era trattata dell'unica richiesta, non c'era nessun altro. Onore e gloria al tuo coraggio e al tuo attaccamento al padre e alla patria, oh Tito Manlio. Vai e con l'aiuto degli dèi dai prova che il nome di Roma è invincibile. Queste le parole del dittatore. Quindi Tito Manlio fu aiutato dai suoi fratelli d'arme, fu equipaggiato per lo scontro, prese uno scudo da fante, come ci dice l'autore della cronaca, probabilmente il tipico scudo ovale in grado di coprire gran parte del corpo, quello prima ancora dello scutum cui tutti siamo abituati quando pensiamo ai legionari romani. E come arma invece scelse il gladio cosiddetto ispanico, adottato all'epoca dai soldati della Repubblica, con una lama lunga circa 60-70 centimetri che Livio, l'autore della cronaca, dice essere molto adatto per lo scontro ravvicinato. E così armato, Tito Manlio fu accompagnato sul ponte dinnanzi a questo guerriero gallico che stava solidamente esultando davanti a tutti e che si faceva beffe dell'eroe romano, tirando fuori la lingua dalla bocca, quindi facendogli le boccacce. I due sfidanti si fronteggiarono soli sul ponte, più simili a gladiatori che non a soldati comuni, e a vederli non potevano essere giudicati affatto dei pari, poiché il gallo aveva un fisico di straordinaria prestanza, altissimo, forte, vestiva in maniera poi tra l'altro sgargiante e rifulgeva di armi cesellate d'oro, mentre il romano invece era di media statura, portava armi maneggevoli e non particolarmente belle, e poi non cantava né gesticolava, piuttosto se ne stava fermo e pronto, con un unico dettaglio che lasciava intendere il suo coinvolgimento emotivo e che l'autore antico ci descrive con una maestria narrativa ineguagliabile, ovvero aveva il petto che fremeva di palpiti di coraggio e di rabbia repressa, e riservava tutta la sua aggressività per il culmine dello scontro. Insomma, l'eroe romano non aveva bisogno di sprecare energie in sberleffi, ma di lì a poco era pronto a far cantare il ferro al posto suo. Il duello stava quindi per avere inizio. I cuori di tutti i soldati erano sospesi tra la speranza e la paura, fissi su quelle due figure che stavano lì per scontrarsi all'ultimo sangue, finché il campione dei galli che sovrastava l'avversario con la sua imponente statura, non avanzò con lo scudo avanti per sferrare un fendente, dritto contro l'armatura del romano. Ma lo mancò. L'eroe romano, sfruttando la propria statura invece, colpì lo scudo del nemico da sotto, scalzandolo via e aperto una breccia tra le difese del gallo, gli si avvicinò tanto da arrivare a portata da fondo e lo infilzò. Prima al ventre, poi all'inguine, ovvero dove arrivava a portata di braccio. Il gigantesco gallo, dopo una manciata distanti dall'inizio del duello, crollò sul pavimento del ponte con un gran baccano. E l'eroe romano, senza inferire oltre, gli strappò la grande collana che aveva al collo, preziosa, per indossarla a sua volta, sporca ancora di sangue. I galli si paralizzarono dalla paura e dall'ammirazione, mentre i romani si abbandonarono a un grido di festa, correndo incontro al loro eroe per portarlo dal comandante. E lo facevano inneggiando cori e battute, tra cui spiccò un epiteto che rimase addosso all'eroe e a tutti i suoi discendenti. Torquato, che deriva dal latino torques, torcere, che nell'interpretazione più diffusa tra gli storici stava a indicare la collana ritorta, ovvero attorcigliata, indossata dal gigantesco gallo, poi divenuta bottino del coraggioso romano. E l'eroico Tito Manlio divenne quindi da allora Tito Manlio torquato, guadagnandosi le lodi e una corona d'oro da parte del comandante. E l'eterna gloria per aver vinto la battaglia, perché i galli, visto come era finito il duello, la notte seguente levarono le tende e se ne andarono. Da disciplina, la fierezza e il coraggio romano sconfissero la forza bruta, come da perfetta tradizione mitologica. Anche se il romano, secondo altre fonti, come ad esempio quella di Claudio Quadrigario, era in realtà assai feroce, perché dopo aver sconfitto l'avversario non perse occasione di mozzargli la testa per farla vedere a tutti. Proprio come aveva fatto il Davide Biblico, col gigante Golia. Un episodio più vicino di quanto non sembri. Se questa storia ti ha appassionato, condividila con tutti gli eroici guerrieri della tua cerchia. E ricordati che le leggendarie imprese che racconto non finiscono qui, ma proseguono con i miei romanzi. Romanzi storico-fantastici, come il primo uscito, La stirpe delle ossa, e il secondo, La canzone dei morti, entrambi disponibili in libreria e negli store online, Amazon compreso. Se vuoi tuffarti in una bella storia di spadate e ammazzamenti medievali, leggili subito e poi fammi sapere. Alla prossima. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache, narrati da Lorenzo Manara.